Buonasera a tutti amici e amici di I am Mr. Blogger Vareani. Faccio questo video e pensavo di non doverlo fare perché pensavo che le persone che stando sul tubo avessero orecchie che funzionano e capiscono bene l'italiano di quello che una persona dice. Infatti questo video è una spiegazione al video post partita di Porto Milan che pensavo di non dover fare ma che nonostante la telefonata con Catto che vi invito a vedere sul suo canale sono costretto a fare. Non lo faccio con la maglietta gay calcio però sempre maglietta gay calcio poi vi lascio il link ma lo faccio con la tuta della mia società la Poli Spetacciato perché io oggi ho capito quando può essere meraviglioso e bastardo questo sport. Mi invito a guardare le mie storie Instagram la mia storia di Facebook con Lorenzo Cristian Vareani, I am Mr. Blogger Vareani e capite perché. Ho fatto schifo su un gol dell'Isernia e poi ho parato un rigore, un grande panico che tutti sanno chi è e io l'ho ipnotizzato dal dischetto stile Magnan e l'ho ipnotizzato. Ma di questo non lo vedrete sulle mie storie quindi ho capito quando gli errori si paghino nel gioco del calcio, quando il non giocare, quando il giocare poco può fare male e può farti fare delle figure di merda. Visto che io al contrario di molti youtuber sono un campo a 11 in un campionato di promozione, in un campionato io ci gioco ancora mentre altri non giocano neanche più su un campo a 11 ma in gambetti a 7, a 8 come faccio anch'io con gli amici. Ma questo video è per spiegarvi una cosa, un chiarimento sul video di Porto Milan perché forse la gente o è sorda o è scema del tutto o non capisce un cazzo di quello che le persone dicono perché poi uno dice che si deve incazzare. E non vi azzardate ad andare da chi mi ha aiutato come il Trinca, come Rastelli, come il Grammatico, come altre gente, catto, a dire a chi cazzo avete fatto arrivare a mille iscritti dice che il Milan fa schifo, il Milan non gioca bene. Non vi azzardate ad andare da altre persone e dire quello che dico nei miei video perché io non mi azzardo a commentare i video degli altri e non vado a sputtanare le cose che dicono gli altri perché se poi io mi metto a fare quello che fate voi sui miei video agli altri, gli altri dovrebbero chiudere i canali che dicono che tutto va bene, bene, i ragazzi, beh, i ragazzi fanno stronzate questo diciamocelo perché io al contrario di molti, eh, perché io a calcio ci gioco e vedo le cose come altri youtuber le cose non le vedono. Ma a parte questo io non ho mai detto e mai dirò che Pioli non gioca bene né che non è un bravo allenatore. Io ho soltanto detto e lo ribadisco che non è un vincente, che non vinceremo mai con lui perché o almeno è molto difficile visto che poi rimane tutto e soprattutto io mi sono rotto le palle di vedere sempre gli stessi errori nelle partite decisive, nelle partite decisive, nelle partite che contano perché io penso che l'italiano, penso di saperlo parlare, io ho parlato di partite decisive lo sfogo di ieri non era più uno sfogo sulla partita di Champions perché anch'io so che il girone di Champions era difficile ma noi ce lo siamo complicato con degli errori tipo quello che ha fatto Florenzi al Liverpool passando la palla ad Henderson, lo schifo di che sì che si fa cacciare e poi anche gli errori arbitrali ma lì è la società che deve parlare e rilancio l'hashtag basta, basta stile Milan, basta io mi sono rotto il cazzo di che siamo gli unici coglioni che non commentiamo gli errori arbitrali quando si lamentano cani e porci. Ma ribadisco io non ho mai detto che il Milan fa schifo, che il Milan non gioca bene o peggio ancora che Pioli non è un bravo allenatore, ho soltanto detto e lo ribadisco che fa nelle partite decisive sempre gli stessi errori e ve l'ho detto anche quali sono queste partite, la Spezia che è uguale a quella col Porto, il derby mandato alle Ortiche, la partita con l'Atalanta, la partita con il Napoli giocata in maniera oscena, quella con la Lazio all'Olimpico, l'abbiamo fatto letteralmente schifo, adesso mi sono ricordato un'altra in questi giorni, ma ricordatevi che l'anno scorso, il giorno di ritorno, stavamo mandando tutto a puttane, non è che io vivo su un altro pianeta o veniamo da Marte, perché siamo qualificati all'ultima giornata, vincendo a Bergamo, non giocando bene abbiamo giocato meglio quest'anno, ma il problema è che a volte Stefano Pioli escono delle partite a dir poco scene, guarda caso quelle partite poi puntano, pesano, io quello che dico, guarda caso nelle partite che contano per qualcosa Pioli le toppa e io ho lanciato l'hashtag provocatorio, perché come mi hanno insegnato a me, quando tu sfai degli errori, devi ricevere i cazzi a toni, come l'ho ricevuto io oggi dal mio mister Rocco Melchiorre, ho preso un gol di merda, mi ha cazziato, poi ho parato un rigore e mi sono svegliato, perché se ti dicono che va tutto bene, ogni giustifica, ti difendono sempre, tu non migliori, tu non svolti, tu non divendi un vincente, rimani a quel livello di piattume, se vi piace il piattume, se vi piace accontentarvi e poi vincono gli altri, non mi dovete rompere il cazzo a me, perché io, essendo una persona precisa di mio, ma essendo anche uno che Milan lo vuole vincente, io non tollero, non tollero, noi non riusciamo a fare due passaggi, grazie a Pioli per la prima volta nella nostra storia, o non mi ricordo da quando, abbiamo zero punti in Champions League, una squadra sette volte i campioni d'Europa, poi mi ricordo che tu ti attacchi troppo alla storia e il Milan è cambiato, se vuoi diventare vincente, non devi fare quelle prestazioni, come quella con lo Spezia, come quella con l'Inter e altre partite, se si vuole guagliare e vincere qualcosa, bisogna rasentare la perfezione, perché poi è brutto, io mi sto rompendo il cazzo di giocare bene e poi vincono l'Inter e l'UV, oltre a fattori esterni, barra schifo arbitrale dell'AIA, però io mi sono rotto le palle di vedere gli altri vincere e credo che anche voi milanisti mi siete rotti il cazzo di giocare bene e poi di essere sputtanati e spernacchiati, Pioli di Sonfire quando fanno le feste scudetto, e per evitare quello schifo bisogna vincere, è chiaro? È chiaro? Perché se non vinci e poi peggio ancora fai i proclami e poi fai quelle prestazioni o scene e ti giochi anche il campionato, poi ti becchi le sputtanate e le scorreggiate, ma io non voglio esserci, perché io perciò sto facendo quello, sto denunciando lo schifo di Pioli, perché poi nelle partite che contano, l'Inter vince, io no, perdo il derby, perdo il campionato, o peggio ancora, Juventus e Napoli, l'Inter e Roma mi scavalcano e io non rivado in Champions, io lo mando a casa. Altro che il rinnovo, perché dopo un anno e mezzo è inammissibile vedere gli stessi errori dell'anno scorso, approcci sbagliati, formazioni sbagliate, gli diciamo, gli urliamo che crunici non è cosa e lui continua a metterlo, come Castiglieco c'è andrà avanti, ma lì non lì era l'emergenza, e ribadisco, l'emergenza non giustifica, l'approccio sbagliato molle, molle, ma io ribadisco, ma non perché mia non gioca bene, faccio queste critiche perché devi fare il salto di qualità, devi fare il salto di asticella, non devi rimanere nel piattume, vabbè mi accontento, arriviamo quarti, arriviamo terzi, arriviamo in Champions, ma bisogna vincere, se si gioca nel Milan, nel Milan, capito? Io sono una persona che pretende il male, pretende il massimo, sì ogni tanto ci può scappare la partita storta, ma c'è modo e modo di perdere, e noi quando facciamo schifo, facciamo letteralmente pietà, e poi dopo quelle volte che fai pietà, poi risultano decisive, io sia nel video, e sia con Gatto, ho parlato di partite decisive, perché il mio sfogo era su una consuetudine che facciamo, noi quando perdiamo, facciamo letteralmente schifo, cioè proprio quando facciamo quelle cose lì, non azzecchiamo due passaggi, partiamo molli, sì non puoi pretendere sempre la perfezione, qualche volta ci scappa la serata storta, ma sono cominciati a essere tante, per questo è una precisazione, io non ho mai detto che non mi piace il Milan, anche come gioco, che fa tutto schifo, non andi azzardata ad andare da altre persone che poi vengono a dire, ma chi hai fatto arrivare il mio inescritto? Io mi incazzo come una bestia, perché io non vado né a rompere il cazzo agli altri youtuber, né a rompere il cazzo alle altre persone a fare la spia, perché se lo trovo poi mi incazzo, faccio come Sinisa Miarovic, appendo al muro la gente, quello che dico dei video miei, lo dico io, a me nessuno mi viene a suggerire né quello che devo dire, né come cazzo vedo le partite, quindi non andate da altri youtuber, tipo il Trinca, tipo il Co, perché loro non sanno come vedo io la partita, né sanno quello che io dico nei video, non vi azzardate a dire, ma chi avete fatto arrivare il mio inescritti? Se non vi piace i miei video, andate da chi vi riempie di belle storielle, tutto bello, senza nessuna critica, oppure fa critiche morbide, io a calcio sto sul campo di pallone con questa società, dal martedì alla domenica, e quindi quando sto su un campo di pallone io vedo le cose che altre persone non vedono, e se dico che noi facciamo sempre gli stessi errori, di approcci molli, perché so cos'è un approccio molle, quello che ho avuto io nel primo tempo oggi con l'Isernia, che ho sbagliato su un gol a cazzo e ho fatto schifo, ma poi mi sono ripreso e mi sono andato a prendere un rigore, ma io a pallone ci gioco, so le dinamiche di una preparazione di una partita durante la settimana, gli allenamenti che vengono fatti, e non tollero che si vada a dire che io dico cose che in realtà non dico, perché poi mi incazzo davvero, non vi azzardate, questo non so a chi ha scritto, chi è andato a parlare, non vi azzardate ad andare dagli altri youtuber che mi hanno dato una mano per farmi scendere gli iscritti, che poi vengo a chiappare, chiunque esso sia, quello che dico, se i video non vi piacciono dovete parlare con me, e se volete fare delle critiche, delle cose, non siete d'accordo, liberi di non esprimere, ma non andate a rompere il cazzo dalle altre persone, perché loro fanno il loro e io faccio il mio, chiaro? Perché mi sono stufato di ricevere telefonate, dando saluto il grammatico, a cui rinnovo in qualunque cosa ci sia, io voglio bene al grammatico, amico del rasta, se non riesco a sbloccarlo è perché non so come si fa, quindi non so come si fa, ma ti voglio bene lo stesso, quindi lascia perdere quella cosa e continua a seguirmi fuori dal tubo, perché non ho tempo di capire come si fa, quindi non è che non voglio sbloccarti, quindi voglio bene a tutti, però non mi fate girare le palle, non andate da chi mi ha aiutato a dire chi avete fatto arrivare a 1000 iscritti, perché quello che faccio, quello che fanno gli altri con me, ce la vediamo io e quelli che mi hanno portato a 1000 iscritti, quindi non vi azzardate a mettere il dito nei fatti miei, nelle sponsorizzazioni mie, nelle cose mie, di come io gestisco il mio canale, di come io parlo di calcio, perché se io mi metto su un campo di pallone, e molti youtuber sono bravi, altri su un campo di pallone a 11 parlo, non so quanti possono starci, io posso starci, quindi parlo come cazzo mi pare a me, poi se non siete d'accordo con me, liberissimi, ma non andate a parlare con gli altri per farmi scendere gli iscritti, a fare le spie, che poi mi vengono a dire, mi chiamano, mi scrivono, e io mi incazzo, perché io non ho detto che il Milan fa schifo, io ho detto che nelle partite recisive facciamo quelle prestazioni come ieri, pure con Catto l'ho spiegato, penso di dire, mio non era uno sfogo più per Porto Milan, ma era uno sfogo perché sono degli abituati quegli errori, noi l'anno scorso abbiamo buttato un gambionato, che se non perdi con la Spezza e con l'Inter, te lo porti a casa e nessuno mi toglie questo tarlo dalla testa, perché avevamo sei punti di vantaggio, o sette, quindi si poteva gestire il momento difficile, abbiamo fatto degli approcci molli e abbiamo mandato a puttare un gambionato, non l'ha vinto Conte, l'abbiamo perso noi, perché fino a prima quando il giorno era andata ero primo io, e non voglio fare lo stesso film ed essere sputtanato una seconda volta, io perciò sto parlando così, perché anche l'anno scorso, e ribadisco, avevo mezzi infortuni, questi approcci qua, partite regalate, e ribadisco, allora non capisci dagli errori, è questo che mi fa labbi a me, perché se capisci gli errori, poi vai a vincere, cioè se tu capisci gli sbagli, capisci che non devi mettere più crunici trequartisti perché non è cosa, e gli dici ciao rate, tu vai a vincere, capisci, capitevi, cioè io faccio quelle critiche perché si deve smuove, come faccio le critiche alla società, quando faccio i comunicati e li scrivo io, perché io mi sono rotto il cazzo di una società che non parla sullo schifo arbitrale in Italia e in Europa, stanno muti e zitti, la Lega di Serie A dov'è? Ma io li faccio perché sono capace a scrivere, in quei termini là, anche a Mino, perché le stronzate vanno risposte come lo schifo arbitrale, quindi quando parlo io dovete rendere conto a me, non andare dagli altri, perché gli altri mi hanno fatto arrivare a mille iscritti, perché hanno apprezzato la persona, il giocatore che sono e le idee di calcio che porto, non accetto che nessuno vada agli altri a rovinare quello che io ho fatto fino adesso, perché mi incazzo, perché sono andato, ho saputo, mi hanno scritto, mi hanno detto, sono andati, nessuno mi dice quello che devo dire, nessuno concorda con me, quello che dico nei video, come vedo il calcio, come lo vedo io, lo vedo come cazzo parla a me, questo è quello che voglio dire, perché ribadisco, in Milan se vuoi vincere, perché io voglio vincere, perché dopo tre anni, perché Stefano Pioli sono tre anni che sta qua, è un anno e mezzo che ha cominciato a fare risultati positivi, io sono stufo di vedere gli altri vincere, è la mia mentalità, mi dispiace, altri da fuori, ma il Milan è bello, va bene così, poi si arriva in Champions, io sono un tifoso del Milan, la grande squadra, quando poi mai sono passati tre anni di questo progetto, se non vinci niente, è un progetto fallimentare, sì, hai avuto delle buone intuizioni, hai fatto esplodere tonali, hai valorizzato i giovani, ma continui a perdere i giocatori a zero, perché anche Frank vuole andare via, forse, e allora c'è qualcosa che non funziona, che per tornare a vincere devo sperare del principe arabo, devo andare a chiamare Arnò, perché se questo progetto è veramente bello, perché è bello, merita di vincere qualcosa, per questo voglio che si sveglia, perché poi gli altri ti sputtano, tu hai bel gioco, ma io ho vinto, e ti fanno pioli, sonfire e altro schifo, alla festa scudetto o peggio, alla festa di Coppa Italia, e tu stai a zero titoli, purtroppo nel calcio, il bel gioco, devi anche vincere, perché ti fai il culo tutta la settimana, si fanno, ci facciamo il culo per andare sul campo, e quando ti fai il culo, devi vincere, se no ti girano i coglioni, quindi quando quelli là fanno quelle prestazioni, io spero che gli girano i coglioni, e li devono girare, perché adesso l'asticella si alza, non sei più la sorpresa, non sei più, devi guagliare, devi vincere, se no, a me non mi sta bene più, non mi sta bene più fare bel gioco, giovani, io voglio vincere, perché se no l'Inter arriva a 30 scudetti, la Juve arriva a 40, io sto ancora a 18, se la Champions non vi interessa, perché da come reagite, per me la Champions è tutto, grazie a Pioli, io sto a zero punti in tre partite, record negativo del Milan, 7 Champions League, a me non mi interessa la Serie A, io preferisco la Coppa, io sono come Carlo Angelotti, per me in Champions è tutto, perché là si vede se sei un calciatore, o il livello lì, quando vinci una Champions, vale più di tutti i scudetti della Juve messi assieme, le mie 7 Champions, valgono più di tutti i loro scudetti messi assieme, e quando vinci la Champions vai a fare la Coppa del Mondo per club, la Supercoppa europea, non la Supercoppa italiana e stop, è chiaro? C'è una bella differenza, quando vai a giocare con le altre squadre del globo e dell'Europa, ma ribadisco, questo video è lungo, però io non accetto di ricevere imbrotti per colpa di qualcuno che va spiando, perché ribadisco, io sono aperto al dialogo, ma i video li faccio io, nessuno mi dice come devo farli, cosa devo dire, quindi non andate da altri dicendo guarda il video di Valeriani, il video di Volker è così, parlate con me, con me dovete parlare, perché gli altri che mi hanno fatto arrivare a mille, con tanta fatica, hanno apprezzato quello che io sono, fuori da qua, fuori da quello che vedete, come i miei compagni mi stimano e mi rispettano dentro al campo, oggi mi hanno incoraggiato, sostenuto, perché hanno capito che io mi sono allenato dal 2 agosto, io mi faccio il culo dal 2 agosto, che sto sul campo e oggi forse ho troppa tensione, ho fatto qualche errore, ma mi sono andato a prendere quel rigore, ma l'ho fatto prima per me, che avevo fatto schifo e poi per loro, che ce l'hanno fatti tre ore di macchina, per arrivare dovevamo andare a giocare, queste cose voi su youtube non le sapete, parlate da leoni da schifo, senza aver mai messo un piede su un campo di pallone, non vi azzardate più ad andare a parlare male, se avete qualcosa a dire contro i miei video, scusate anche se rimuovi i commenti, ditelo, ma non fate gli leoni da tastiera, perché su un campo di pallone alcuni non ci hanno manco messo il piede e vanno a parlare con gli altri youtuber, gli altri youtuber non devono, non sono i miei capi, che dovete andare a qua per farmi morire a me e poi loro vanno avanti, io devo morire perché voi andate a sputtanare me, io con loro ho un rapporto, se mi chiamano nelle live vado, se ci voglio andare, se non ci vado, sono libero di fare quello che voglio, ma nessuno deve permettersi di andare a tra virgolette a pisciare negli altri orti e con questo ho concluso, scusate la lunghezza, ciao a tutti, prossimo video, prossimi giorni e ribadisco, andatevi a vedere la telefonata col catto, perché forse ribadisco, o non ci sentite bene o non capite un cazzo di quello che le persone dicono, sotto il link che vi lascio qui, sempre magliette che calcio, oggi ho fatto il video con la mia società, perché vi ho raccontato la mia storia di oggi, ma se no, sempre magliette che calcio, non voglio perdere la sponsorizzazione, perché voi andate a dire che quelle maglie non sono buone, per me vanno bene, se le volete comprare bene, se no io sono fiero di averle comprate, ciao a tutti, anzi di averle sponsorizzate e ricevute, ciao a tutti.